...di esibizione e con quella di ieri per quanto riguarda Acrobatic Freestyle saranno sei i finalisti di domani between yesterday and this moment only six will be... una bella notizia arrivata bene a cari Acrobatic Freestyle stasera alla fine dell'esebizione dell'ultimo concorrente sapremo chi sono i finalisti i responsabili sono loro questa meravigliosa giuria loro hanno deciso inappellabile ecco loro il tempo che c'è questo è essere uomini e si prendono totalmente la responsabilità di quello che fate perchè la stretta qui ne è e ce la sa questo è il dottore è una bella voce ma spingi un po' di più le ragazze in generale i grandi giudici mauro buono che stavano 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 riparti a casa che la sento, questi sono i veri buoni. Allora, si continua. Allora Giulia, vi ricordo che avete il numero 23 da giudicare, Collington Jamie, from United States of America. DJ la musica è pronta. Ok, abbiamo dieci secondi, 20 secondi, 20 secondi. Prima di partire. Sì, va bene. È l'emozione. Guarda che questa è l'emozione. È l'emozione. Allora facciamo, grazie. Allora facciamo. Ok, we are ready, Collington Jamie number 23. Allora facciamo. Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 Ancora due concorrenti, dopo di che sapremo chi sono i finalisti per domani, i sei finalisti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow, this is the quietest I've heard the whole time. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La postazione...